Cari amici, diremmo una giornata a tutti, solo le 9 e 2 minuti di mercoledì, 31 gennaio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della Cronica della Storia. Oggi, come sapete, Sian Giovanni Bosco, un santo molto popolare, santo della gioventù. Facciamo gli auguri a tutte le famiglie spirituali di Sian Giovanni Bosco, Salesiani e anche le diverse famiglie di suore che fanno capo questo grandissimo sacerdote, ma anche grande educatore. Allora, noi andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della Cronica della Storia. Oggi volevo dedicare, cari amici, il pensiero spirituale, appunto un'espressione che poi ha costituito anche il titolo del libro nuovo che è a vostra disposizione, cioè che è intitolato la Chiesa è indistruttibile. È un'espressione di un messaggio da Regina della Pace, la quale appunto spiega anche perché la Chiesa è indistruttibile. La Chiesa è indistruttibile perché in essa c'è l'Eucaristia. Questo dunque è un'indicazione molto importante e che sta a indicare come la Madonna inviti proprio a fare dell'Eucaristia il centro stesso, i radianti della Chiesa e anche della nostra vita personale. Perché la Madonna ha detto che la Chiesa è indistruttibile perché in essa c'è l'Eucaristia? È perché nell'Eucaristia c'è la presenza viva di Cristo, cioè nell'Eucaristia è presente Cristo nella sua totalità, cioè Cristo risorto con suo corpo, sangue, anima e divinità come si suole dire nella formulazione della fede e Cristo quindi è realmente presente nell'Eucaristia ed è presente nell'Eucaristia così come è presente in cielo. Quindi come osserva Sant'Omaso d'Aquino Cristo è realmente presente e in cielo e in terra nell'Eucaristia. Poi i modi della presenza di Cristo sono molto vari, è presente con la sua parola, è presente con il suo spirito, è presente con la sua grazia, ma l'Eucaristia è quella presenza straordinaria grazie alla quale durante la Santa Messa per le parole del sacerdote che agisce in persona a Cristi, cioè come strumento di Cristo, il pane e il vino che sono i segni del sacramento diventano il corpo e il sangue di Cristo quindi nella Santa Messa viene rinnovato il sacrificio d'amore di Cristo che si è offerto vittima di espiazione per i nostri peccati e quindi cari amici noi abbiamo questa immensa grazia attraverso l'Eucaristia di rivivere l'opera della redenzione e renderla contemporanea e fanno una fonte di grazia fino alla fine dei tempi. Questo spiega cari amici anche perché nella chiesa la Santa Messa è la preghiera per eccellenza insomma quando la chiesa celebra prega si a diversi modi di pregare anche la preghiera liturgica si esprime a molti livelli cioè il livello diciamo dalla celebrazione della parola, l'ufficio divino, la celebrazione dei sacramenti però il culmine del culto divino della chiesa è la celebrazione della Santa Messa nella quale si celebra l'opera della redenzione e quindi noi partecipiamo attraverso il mistero della Santa Messa a quell'atto d'amore di Cristo col quale ha salvato il mondo quindi partecipiamo alla totalità della redenzione cioè la sua passione la sua morte la sua resurrezione allora non è l'unico messaggio col quale la Madonna ha voluto focalizzare il cuore della chiesa indicando l'eucaristia e lo ha fatto soprattutto come sapete nella parrocchia di Međugorje mettendo l'eucaristia al centro della giornata della parrocchia per cui la messa quotidiana questo è un fatto veramente straordinario è diventata lì a Međugorje la messa quotidiana è diventata già all'inizio quando la parrocchia aveva soltanto i suoi abitanti è diventata il centro focale della giornata quindi tutti quelli che vanno a Međugorje lo sanno che benché ci siano messe di gruppo durante la giornata la messa della sera e con tutti i pellegrini con la concelebrazione e con la messa serale preceduta da due rosari e conclusa al termine con un altro rosario di ringraziamento a volte c'è anche l'adorazione l'eucaristica c'è la via crucis è un fatto quotidiano è un fatto quotidiano quindi questo è indicare l'importanza che dà la Madonna specialmente per il nostro tempo ha fatto dell'eucaristia la centralità della vita spirituale della chiesa questo gremici ci fa riflettere sulla crisi della fede che stiamo vivendo perché noi in questi decenni abbiamo vissuto una crisi di fede che poi è diventata visibile soprattutto attraverso la diminuzione delle persone che partecipano alla messa domenicale molte volte si ha l'impressione proprio che anche proprio la gioventù non partecipano alla messa magari partecipano alle messe di gruppo partecipano alle messe di appartenenza a questo o a quella denominazione cattolica però è proprio delle messe parrucchiali che si vede una diminuzione significativa delle persone dei giovani e qui credo che dovremmo riflettere insomma sull'importanza di dovremmo riflettere sull'importanza di dedicare le energie necessarie a livello pastorale per far sì che la messa rifiorisca e sia un incontro di tutta la comunità cristiana e tutte le sue componenti e quindi dedicare proprio all'eucarestia tutto con l'attenzione personale con l'attenzione pastorale che la madonna desidera e la madonna anche intervenuta a meggiugorje nei piccoli particolari per esempio vuole che prima la santa messa si deciti la preghiera lo spirito santo e i parrucchiali parrucchiali all'inizio i sacerdoti che c'erano l'hanno obliterata la madonna l'ha fatta rimettere e a volte intervenuta perché i bambini non erano assistiti dai genitori o da altri adulti per aiutarli a partecipare bene alla santa messa insomma noi vediamo e questo che abbiamo visto dando per ingaggio a meggiugorje per l'aver già inquadrato inquadrato in una grande attenzione che la chiesa stessa ha fatto l'eucarestia con la riforma liturgica per cui diciamo di fronte a questo dissanguamento della partecipazione alla santa messa che poi è un segno della crisi di fede che stiamo attraversando è necessario una come si dice un'attenzione pastorale per far sì che le messe specialmente quelle della domenica che il giorno del signore siano partecipate ma tutte le componenti e tutte le componenti della comunità cristiana e quindi trovare anche il modo di far partecipare i giovani e i ragazzi ci sono tante belle iniziative al riguardo che perché se i ragazzi sono in qualche modo i giovani se sono da soli difficilmente vanno alla messa ma se sono inquadrati in un gruppo d'appartenenza ci vanno anche volentieri quindi non rassegnarsi alle chiese semi vuote specialmente vi domenica e dobbiamo dobbiamo noi stessi prima di tutto gli sacerdoti comprendere l'importanza dell'eucarestia la sua centralità e la fonte di grazia l'eucarestia è una fonte di grazia di tutti i sacramenti e della fonte di grazia della vita spirituale per cui anche sotto il profilo anche nostro dovremmo fare della santa messa un punto di incontro incontro la domenica e anche nelle grandi festività a cui mai mancare un appuntamento col signore cioè chi di noi avendo avuto un appuntamento col signore mancherebbe eppure quante volte manchiamo e diciamo soprassediamo e diamo diciamo più importanza a una gita o a altre cose insomma per cui per cui poi cosa ne esce fuori se non attingiamo le fonti della grazia sulla parola di Dio che sono l'eucarestia è chiaro che se non si prega e questa è la preghiera per eccellenza la messa la fede si evanisce svanisce e come un fiore secca e muore cari amici quindi ecco perché dunque noi dobbiamo affrontare un futuro di difficoltà e di attacco alla chiesa di persecuzione alla chiesa lo sappiamo come in passato specialmente il tempo dei martiri cristiani l'eucarestia era la forza che li sosteneva vi ricordate martirio di sant'arcisio che quel ragazzo che portava l'eucarestia ai cristiani che dovevano affrontare il martirio e così oggi cari amici l'eucarestia deve diventare la nostra forza e la partecipazione alla santa messa domenicale deve essere è un comando divino è un precetto divino ma deve essere per noi una come dire una una gioia una gioia un appuntamento d'amore una testimonianza pubblica di fede carissimi e mettersi nelle condizioni di poter fare la comunione dopo dopo che ci siamo confessati quando è necessario farlo perché se sei in grazia di Dio possiamo fare la comunione se abbiamo dei peccati gravi dobbiamo confessarli prima ecco a restaurare dunque cari amici la vita cristiana nell'osservanza dei comandamenti qui è un terzo comandamento che riguarda i nostri doveri verso Dio ricordi di santificare le feste e la sua formulazione catechetica ma come dire dispiace vedere anche quando si vede la televisione qualche volta la domenica insomma lo spettacolo è sempre quello insomma persone la maggioranza delle persone sono anziane si vede qua da qualche bambino mancano giovani mancano gli uomini a volte poi c'è qualche famigliola ma non so sembra quasi che la messa di si è riservata alla terza età questo è segno di un cristianesimo all'acqua di rosi, un cristianesimo stanco di un cristianesimo che si deve rinnovare prendiamo i nostri impegni a questo riguardo perché se è vero che la Chiesa è indistruttiva e perché c'è l'Eucaristia è vero anche che la nostra vita spirituale la nostra testimonianza cristiana diventa forte, diventa indistruttibile se è alimentata dall'Eucaristia ecco cari amici questo era quello che volevo dire anche per spiegare il titolo del nuovo libro La Chiesa è indistruttibile questo libro lo inizieremo a esporre qui in radio lunedì prossimo e quindi lo inizieremo, lo spiegheremo molti di voi l'hanno già ordinato, quella domenica l'hanno ordinato nei vari store online, nelle librerie è già il primo posto in classifica che sta nel store online e che sta a indicare quanto sia gradito è un libro sulla Chiesa che insegna ad amare la Chiesa insegna ad essere protagonisti nella Chiesa adesso cari amici entriamo in un'altra fase della nostra chiacchierata e una delle cose che mi ha poco colpito in questi ultimi, possiamo, due o tre anni è la crisi delle istituzioni internazionali in particolare l'ONU che è quella istituzione internazionale che è nata dopo la prima guerra mondiale rilanciata dopo la seconda guerra mondiale che comunque nel corso della storia contemporanea ha dimostrato di essere un luogo non solo di dialogo ma anche di, come dire, un luogo dove si trovava in qualche modo un equilibrio per cui le situazioni internazionali più aspere venivano in qualche modo attutite e venivano, come dire, circoscritte ha avuto la sua funzione importante, non c'è dubbio purtroppo negli ultimi anni specialmente dopo che uno dei membri dell'ONU che è la Russia ha invaso un altro membro dell'ONU che è l'Ucraina negandone, diciamo, la validità giuridica come se l'Ucraina non avesse diritto ad esistere quando invece è l'ONU stessa che l'ha riconosciuta come membro delle Nazioni Unite con i confini che sappiamo che riguardano anche la Crimea fra l'altro e quindi questo è stato un colpo all'ordine internazionale così come lo conosciamo che in qualche modo ha messo a suo quadro il mondo perché l'elemento, diciamo, di compensazione delle crisi è diventato un elemento che non riesce più a mediare e questo lo si è visto man mano in questi ultimi anni dove appunto le varie istituzioni internazionali anche quelle che derivano dall'ONU o comunque sono connesse fanno fatica a svolgere il loro compito ora, ultimamente, in questi ultimi giorni è venuto a galla un fatto che lascia molto sorpresi insomma, lascia sgomenti in un certo senso perché ti fa capire quanto il mondo sia regredito e abbia fatto passi indietro rispetto a un recente passato rispetto anche alle elezioni che abbiamo avuto alle elezioni che abbiamo avuto dopo la prima e la seconda guerra mondiale dove l'umanità ha fatto in qualche modo tesoro di quello che è accaduto con la guerra ora, che cosa si è scoperto? si è scoperto che una delle istituzioni più importanti dell'ONU a livello proprio, a livello, come dire, umanitario che si chiama, leggo come è scritto la sigla UNRUA, la sigla che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente allora, c'è stata una denuncia da parte di Israele e comunque con prove irrefutabili secondo questa denuncia una buona parte di questi dipendenti di questa agenzia dell'ONU hanno partecipato di persona alla aggressione del 7 ottobre con la quale Hamas ha ucciso 1200 cittadini di Israele indifesi, fra l'altro, e ne ha feriti 5.000 disseminati nei vari kibbutz ora, questa cosa non è che sia una cosa non si dibatte su questo argomento perché è talmente evidente era una cosa che sapevano tutti e io mi chiedo mi preoccupo personalmente proprio a livello del degrado del degrado del livello di moralità del genere umano e poi del degrado delle istituzioni che dovrebbero presiedere diciamo a addolcire in qualche modo mitigare l'odio, la guerra tutto quello che comporta diciamo tutto quello che troviamo ogni giorno sulla scena insomma invece di essere un'istituzione che mitica la barbarie è diventata un'istituzione che è complice della barbarie allora volevo approfondire questo argomento ma non per far polemiche perché questo sta a indicare sta a indicare uno sfacelo dell'ordine internazionale dove alla fine conta solo la forza cioè non conta più la verità non conta più la giustizia non conta più nulla anche chi dovrebbe essere imparziale assicurare la giustizia e il dialogo invece si schiera cosa dovete fare cosa dobbiamo fare cioè siamo un livello di degrado tale da scoraggiare la persona più ottimista insomma cioè da dove incominciamo allora da dove ripartiamo per ricostruire un'umanità che non sia un groviglio di vipere che non sia un branco di lupi non si sa da che parte di cominciare allora intanto vi leggo un articolo di Giulio Meotti che ha scambiato qualche idea a questo riguardo con un intellettuale israelo americano di Gerusalemme che appunto dice guardate che la situazione lì a Gaza si sapeva che era così cioè si sapeva che questa istituzione dell'ONU era praticamente manipolata da Hamas e quindi ha agito in nome di Hamas e non quindi come uno strumento esterno e diverso e quindi uno strumento diciamo di equilibrio fra i due belligeranti allora leggiamo questo perché è impressionante ve lo leggo perché mi ha impressionato dunque secondo i rapporti di intelligence esaminati dal Wall Street Journal che è un giornale americano non solo 12 dipendenti dell'ONU avrebbero preso parte all'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre ma il 10% di tutto il personale ONU di Gaza avrebbe legami con gruppi terroristici di 12 dipendenti dell'Unrua collegati agli attacchi 7 sono insegnanti 1200 e di 12.000 dipendenti dell'Unrua a Gaza hanno legami con Hamas cioè 1212.000 hanno legami con Hamas o con il shiad islamico palestinese il 23% dei dipendenti maschi dell'Unrua ha legami con Hamas una percentuale superiore alla media del 15% per i maschi adulti a Gaza indicando una maggiore politizzazione all'agenzia rispetto alla popolazione totale quindi praticamente è impressionante cioè il 23% dei dipendenti dell'Unrua hanno legami con Hamas la meta di unrua avrebbe parenti stretti che hanno legami con i gruppi terroristici i rapporti interi del 7 ottobre visionati dal journal world street world identificano un insegnante dell'unrua che è anche un comandante di Hamas e ha preso parte all'assalto dei kibbutz beri dove 97 persone sono state uccise e 26 sono state prese in ostaggio non mi ha sorpreso tutti qui sapevano che Hamas e unrua sono la stessa cosa dice al foglio Yossi Klein a Levi intellettuale israelo americano di Gerusalemme non puoi lavorare in modo indipendente a Gaza continua Klein a Levi Hamas controlla tutto dei curricula le curricula nelle scuole il curriculum cioè il svolgimento dei programmi scolastici fino alla partecipazione attiva nel terrorismo sono sorpreso solo di una cosa la sorpresa della comunità internazionale che ha fatto finta di non sapere ma sapeva tanto era evidente non sapevano che cosa succedeva a Gaza ma li avevamo avvertiti l'ONU a Gaza avvelenava generazione dopo generazione cioè l'ONU a Gaza avvelenava generazione dopo generazione per forza aveva in sé i militanti di Hamas pochi se ne sono curati e si è voluta un'atrocità con il coinvolgimento dell'ONU per costringere a vedere in faccia il mostro che avevano loro stessi creato non solo poche bene marce l'albero è marcio l'albero è malato questo è quanto dice di Yossi Crane a Levi un intellettuale israelo-americano di Gerusalemme Gerald Steinberg presidente del think tank cioè del pensatoio diciamo che si chiama GoMonitor con sede di Gerusalemme ha descritto il definizionamento dell'URWA come senza precedenti cioè praticamente diversi stati come c'è anche l'Italia quando ha saputo questo non hanno più finanziato questa istituzione che era finanziata da diversi paesi del mondo abbiamo visto casi in cui gli Stati Uniti e le amministratorie repubblicane hanno congelato i finanziamenti ma ora è un'amministrazione democratica che ha congelato i finanziamenti cioè praticamente cioè Biden che era come sappiamo democratico prima questi definanziamenti li abbiamo fatti i repubblicani ma questa è la prima volta che un'amministrazione democratica degli Stati Uniti ha congelato i finanziamenti le prove sono state molto chiare è qualcosa che i paesi hanno ignorato per molti anni ma ora a causa del collegamento diretto con la brutalità del 7 ottobre si riconosce che l'Urua non può continuare a funzionare come è stato fino ad ora Israele questa è la domanda va difeso non solo da Hamas e Zbollah ma anche da pezzi dell'Occidente pezzi dell'Occidente perché è finanziata soprattutto dall'Occidente lo scandalo Unrua il processo a Israele per genocidio alla corte dell'ONU a Laia il silenzio di organismi come UN Women cioè l'istituzione dell'ONU a difesa dalle donne appunto il silenzio di questo organismo sull'istub di Hamas Israele sta affrontando solo gruppi genocidari ai confini ma anche l'assalto da parte di un pezzo d'Occidente che sta dando legittimità e copertura morale agli assassini in questo senso la complicità dell'ONU del 7 ottobre è una metafora di tutti il linguaggio distorto e gli epititi emersi dopo il 7 ottobre di trovarsi accusati di genocidio dopo aver vissuto una esperienza di genocidio è profondamente disorientante e non so più in che mondo sto vivendo questo lo sta dicendo Gerard Steinberg che è presidente del gruppo di pensiero Monitor costituito di Gerusalemme dice evocare il genocidio è la disumanizzazione definitiva è il motivo per cui la gente sta a fare i manifesti degli israeliani dei rapiti spiega Cragna Levi vedere foto di bambini rapiti è una minaccia alla misura del mondo in cui non può esserci spazio per la legittimità di Israele lo scrisse già il filosofo Vladimir Jan Kilewicz nel 1971 che scrisse e se gli ebrei fossero nazisti sarebbe meraviglioso non sarebbe più necessario compatirli ma avrebbero meritato il loro destino meriterebbero anche un mini genocidio sotto legida del palazzo di vetro insomma dite quel che volete ma ma questa complicità universale si può dire o esplicita o coperta nei confronti non tanto di Israele diciamo nei confronti degli ebrei è un mistero di iniquità che ha per noi creventù una spiegazione teologica cioè l'odio antimaico è l'odio contro è l'odio contro soprattutto è l'odio contro Gesù Cristo contro la Madonna contro gli apostoli contro contro il salvatore del mondo e siccome siamo in un mondo in cui Satana regna come ha detto la regia della pace non c'è da meravigliarsi che che i cristiani siano il gruppo più perseguitato nel mondo ma ancora più dei cristiani sono proprio gli ebrei un popolo così perseguitato che già un'altra volta siamo una suota della storia già un'altra volta come si dice si vorrebbe si vorrebbe che scomparissero non lo so se non è Valino del serpente questo ditemolo voi cos'è Valino del serpente allora vorrei anche a questo riguardo completare quello che ho letto con un altro articolo del foglio del direttore che è Claudio Cerasa che comenta un che ha comenta un un manifesto che un giovane ha un giovane italiano ha mostrato alla finestra durante una manifestazione contro Israele organizzata dai simpatizzanti di Hamas e questo foglio aveva una frase aveva una frase molto semplice ma molto efficace in inglese free Gaza from Hamas cioè che vuol dire liberate Gaza da Hamas che ci vuole a dirlo si chiede il direttore del foglio l'Urwa ormai avete imparato purtroppo a conoscerla è l'agenzia delle Nazioni Unite per i soccorsi e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente negli ultimi giorni lo sapete l'Urwa è finita al centro di uno scandalo internazionale per la presenza fra le sue unità di un numero importante di dipendenti che ha avuto loro durante l'attacco del 7 ottobre di Israele cioè quello che tu non immaginereste mai che accada accade oggi cioè accade l'incredibile accade l'impensabile e siamo solo all'antipasto l'intelligenza israeliana due giorni fa ha raccontato con esempi circostanziati che il personale dell'Urwa che avrebbe legami con Hamas e il shiad islamico si aggirerebbe intorno al 10% per il totale dei dipendenti su 13.000 dipendenti i totali fa un numero importante cioè 1.300 dipendenti sono di Hamas è il caso dell'Urwa ieri è stato portato al congresso degli Stati Uniti con lo scopo di ragionare non solo sul modo in cui l'agenzia delle Nazioni Unite ha fatto poco per non farsi penetrare degli amici dei terroristi ma anche sul modo con cui le Nazioni Unite da molti anni giocano una partita sporca con tutto ciò che rappresenta Israele Hillel Neuer avvocato internazionale diplomatico attivista e direttore dell'esecutivo di una ONG che monitora da anni la leggerezza con cui le Nazioni Unite affrontano il tema della difesa di Israele ieri ha depositato al congresso americano una memoria di cinque pagine ricca di spunti di riflessione spunti utili a mettere a fuoco il grande tema rimosso quando si parla di ONU non solo mele marce ma è un metodo Hillel Neuer prima di arrivare alla ciccia del suo ragionamento ricorda la storia del tunnel di Hamas scoperte accanto sotto le scuole dell'Urwa nella striscia ricorda la storia degli account dei dipendenti dell'Urwa che esplicitamente hanno sostenuto in questi mesi il terrorismo ricorda la storia di uno stagio liberato che ha tenuto nascosto in una soffitta dell'Urwa ricorda quante scuole sono state utilizzate come piattaforme di lancio dei razzi cioè questa è un'esposizione fatta al Parlamento americano è un'esposizione dettagliata di cinque pagine ricorda quante scuole sono state utilizzate come piattaforme di lancio di razzi ricorda quanti insegnanti presenti all'interno delle agenzie della Nazione Unite per il soccorso e l'occupazione che gestisce i servizi educativi e sociali per i palestinesi hanno invitato in questi anni con una certa regolarità a uccidere gli ebrei creando materiale bidattico che glorificava il terrorismo incoraggiava il martirio demonizzava gli israeliani e incitava l'antisemitismo sia ben chiaro che il mio sostegno personale poi per il popolo ebrancho prima di tutto non significa che io abbia problemi a riconoscere la dignità e anche il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato a una condizione uno Stato che riconosca che ci sia il reciproco riconoscimento fra palestinesi e israeliani se no che Stato sarebbe quindi per me fuori discussione questo diritto che ha questo popolo ad avere una terra e ad avere uno Stato suo in collaborazione con i vicini israeliani questo ritengo che sia una strada doverosa ma detto questo caramici non si può non si può tacere di fronte a questo degrado di istituzioni internazionali nati dopo una guerra per assicurare la pace che diventano strumenti di guerra non si può tacere su queste cose dunque si potrebbe dire che sono solo mele marce che sono casi isolati all'interno di un oceano di grande impegno a difesa di israele ma la storia purtroppo ci insegna che il film horror come dice Hiller Neuer è in lavorazione da decenni cioè la nuova ondata che è maturata nel tempo rivolta alla distruzione di israele poi salì e distingue il popolo ebreo mi sembra che sia una cosa campata beraria perché il popolo ebreo si identifica con israele come dice appunto Hiller Neuer questo film dell'orrore è in lavorazione da decenni è stato coprodotto da tutti i paesi che hanno finanziato con spessi milioni di dollari dal Reino Unito quindi praticamente ha ricevuto più di mezzo milione di dollari questo costa un ruo a chi e che tutti quelli che hanno dato questi finanziamenti compresi gli Stati Uniti si sono rifiutati cappandosi gli occhi di farsi delle domande semplici cioè dove vanno a finire questi soldi a chi vanno a finire questi soldi come si può chiedere che le Nazioni Unite svolgano un ruolo neutrale nel conflitto in Medio Oriente quando sostiene le stesse Nazioni Unite a non riconoscere Hamas il Jihad Islamico Hezbollah i Fondi Popolari per la Liberazione della Palestina come gruppi terroristici anche se ciascuno di esse è designato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera come si può fischiettare di fronte al fatto che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei palestinesi Francesca Albanese abbia scritto nella indifferenza generale che l'America è soggiogata dalla lobby ebraica e come si fa a considerare la presenza di dipendenti della Nazione Unite che erogiano i santi guerrieri di Hamas che pregono perché vengono uccisi gli israeliani uccidete uno per uno non lasciate nessuno di loro giustiziate i coloni in diretta cioè questi sono tutti dipendenti dell'Urua che è un'organizzazione appunto dell'ONU questi dipendenti hanno scritto sui loro social hanno scritto che quelle di Hamas sono i santi guerrieri hanno scritto che pregano perché vengono uccisi gli israeliani hanno scritto uccideteli uno per uno non lasciate nessuno di loro giustiziate i coloni in diretta che incendono gli studenti ad ammirare gli assassini terroristi a odiare i soldati israeliani e che nei campi estivi offrono ai bambini di Gaza un addestramento paramilitare per le future guerre con gli ebrei ora tutto questo dice come può essere compatibile con una organizzazione delle Nazioni Unite il cui Consiglio per i diritti umani è trasformato in un bersaglio l'unica democrazia del Medio Oriente la cui Assemblea Generale cioè dell'ONU adotta regolarmente un numero di risoluzioni contro Israele che supera quella adottata contro tutti gli altri paesi del mondo messi insieme che chiude gli occhi sugli orrori commessi da teocrazie fondamentaliste al punto da primari paesi come l'Iran questa è grossa come cioè praticamente le Nazioni Unite hanno affidato all'Iran la presidenza del forum sui diritti umani delle Nazioni Unite cioè praticamente il forum sui diritti umani delle Nazioni Unite dovrebbe tutelare i diritti delle donne cioè a me solo dell'Iran ha tutelato dei diritti delle donne la ragione per cui l'Occidente fino ad oggi non ha mai riconosciuto la corruzione morale dell'Urua e dell'ONU di fronte a Israele risiede come ha scritto ieri il Times di Londra nella sua profonda fiducia nella bontà delle istituzioni transnazionali che ritiene in canino l'ideale di fratellanza umana non lo so tutti noi abbiamo pensato che le istituzioni internazionali nati dopo guerra specialmente avessero questo compito di fratellanza umana però dobbiamo dire che ultimamente sono usate per scopi bellici diciamo pure come è chiarissimo nel fatto ormai dimostrato che il 15% dei dipendenti in Urma ha partecipato in un modo o nell'altro all'attacco del 7 ottobre più semplicemente un'organizzazione che non ha il coraggio di pronunciare le quattro parole con cui sabato scorso a Milano un ragazzo di 25 anni ha mandato in tilt i manifestanti per la Palestina libera cioè quando ha detto appunto free Gaza libera da Hamas dunque più semplicemente un'organizzazione che non ha il coraggio di pronunciare le quattro parole cioè free Gaza from Hamas cioè Gaza libera da Hamas con cui sabato scorso un ragazzo di 25 anni ha mandato in tilt i manifestanti per la Palestina libera è un'organizzazione che Israele ha scelto da tempo da che parte stare cioè è un'organizzazione dell'ONU che ha scelto di stare dalla parte di chi ogni giorno delegittime Israele delegittimando i suoi nemici non solo Mille Marce è un metodo cioè è una scelta politica è chiaro allora si può nel medesimo tempo allora sostenere la parte opposta cioè libera la razza da Hamas che ci vuole a dirlo questo è l'articolo del direttore del foglio a termine del quale però a me viene a fare una riflessione cioè secondo voi un mondo in cui praticamente tutti lavorano per la guerra compresi le istituzioni che lavorano per la pace secondo voi dove stiamo andando questo vi dico mi pare che l'unica realtà l'unica istituzione che è divina ma noi la vediamo anche sotto un profilo umano ovviamente che è la chiesa è l'unica istituzione che c'è è l'unica istituzione che c'è che lavora per la pace che opera per la pace che predica la pace che forma le coscienze sensibili alla pace ma che è ascoltata in questo frastuono di bombe sono pochi che ascoltano la chiesa e sono anche pochissimi quelle che ascoltano la madonna la quale ci dice Satana vuole l'odio Satana vuole la guerra quindi cari amici non è che Dio come dice Dio certo interviene nella storia però certamente come ha detto la madonna Dio vi ama ma dato a me spesso avvare le vostre vite per dire su quale vivete certamente però cari amici un mondo che va così velocemente verso la catastrofe non so se basterà un pallottoliere a fare i conti alla fine ecco cari amici questa era la parte dedicata a questo scandalo gravissimo perché praticamente non ci sono istituzioni su cui contare istituzioni neutrali almeno ci sarebbe solo la chiesa ma comunque sono tutti affacendati in altre cose sono affacciati di fare la guerra quindi pensano di vincerla e vanno avanti su buona strada adesso cari amici volevo prima di arrivare alla fine fare una riflessione però non riesco a trovare il mio foglio vediamo un po' se non riesco a tirarlo fuori naturalmente era l'ultimo ecco allora cari amici volevo fare una riflessione perché ho visto che molti di voi cioè molti di quelli che mi hanno scritto erano chiaramente preoccupati molti di quelli che mi hanno scritto erano chiaramente preoccupati per il messaggio della regina della pace del 25 gennaio cioè sembrava quasi che era madonna dopo il bellissimo messaggio del primo gennaio e poi col 25 fu stata rientrata di nuovo in una posizione di preoccupazione di dolore e di sofferenza per la situazione nella quale stiamo vivendo certamente c'è una preoccupazione della madonna per la situazione del mondo ovviamente una situazione del mondo che va verso la catastrofe madonna ha detto già ampiamente in precedenza con espressioni molto forti l'umanità ha scelto per la morte l'uomo moderno non vuole Dio e va verso la perdizione quindi la fotografia del mondo ce l'ha donata però pensavamo che dopo la risposta generosa che c'è stata il primo gennaio e dopo anche diciamo le parole della madonna grazie perché avete risposto alla mia chiamata non vi petirete né voi né i vostri figli né i figli dei vostri figli abbiamo pensato che ci fosse questo scossone e che ci fosse una svolta ma in realtà il messaggio del 25 gennaio che praticamente era un brevissimo invito alla preghiera ha preoccupato molti e allora io ritengo che questa preoccupazione non sia infondata cioè non voglio io stesso nel dare diciamo un commento al messaggio ho voluto dire che la madonna in fondo ha ripetuto quello che ha detto nel marzo del 2023 e invitandoci a preparare la quaresima perché il prossimo 25 febbraio la quaresima è già incominciata da una decina di giorni però in realtà penso che abbiano ragione quelli che dicono che la madonna è preoccupata ed è sofferente per la situazione in cui si trova il mondo e anche per la situazione in cui si trova la chiesa perché è chiaro che la chiesa specialmente nell'occidente è dissanguata possiamo dire per quanto riguarda tutto il suo apparato riguarda anche le vocazioni fra l'altro che sono in crisi le vocazioni della vita religiosa la vita sacerdotale la partecipazione dei fedeli alla messa molti che abbandonano la fede abbandonano i sacramenti non battezzano i bambini non si sposano in chiesa insomma la situazione la conosciamo molto bene poi ovviamente la madonna vede quello che noi non vediamo cioè vede il piano di satana che è la distruzione del cristianesimo perché sta imponendosi nel mondo una visione della vita specialmente all'occidente dove non c'è posto più per la fede una visione della vita materialistica darwiniana pseudo-scientifica che viene inculcata alle nuove generazioni c'è un monopolio diciamo di questa cultura sfissiante e quindi un mondo senza Dio che sta emarginando la fede ridotta a piccole minoranze quindi la madonna ha visto tutto questo ci ha rivelato tutto questo ci ha aiutato a capire quello che sta avvenendo ci ha detto il piano di satana di mettere se stesso al posto di Dio cioè mettendo l'uomo al posto di Dio satana vuol mettere se stesso al posto di Dio ora io mi sono chiesto ma la madonna è preoccupata come lo si vede in questi ultimi mesi è preoccupata per questo o è preoccupata per qualcosa d'altro io personalmente sono arrivato alla conclusione che la madonna è preoccupata per qualcosa d'altro cioè noi abbiamo visto che tutte le volte che la madonna struttura un messaggio ci dà un messaggio il messaggio è sempre strutturato nel medesimo modo c'è una rivelazione dell'amore di Dio c'è sempre una rivelazione dell'amore di Dio Dio mi ha inviato eccetera eccetera e poi però c'è una rivelazione del piano di satana quindi la prima parte del messaggio ha sempre queste due luci una falsa luce che è quello che satana fa e una vera luce che è quella che lei fa poi la madonna la seconda parte del messaggio tira le conclusioni cioè di fronte alla luce che lei ci manifesta e di fronte diciamo così alla alla necessità che lei ha di apostoli che rispondano ci fa l'esortazione alla risposta e ci fa l'esortazione alla testimonianza e quindi a schierarci con lei per la battaglia per lottare contro l'impero del male tutti i suoi messaggi sono così strutturati se ci pensiamo bene quindi la madonna non è non è preoccupata o forse lo è ma non non così non è questa la motivazione principale della sua preoccupazione cioè la madonna non è preoccupata perché il mondo va verso l'abisso è preoccupata ma qui c'è qualcosa che di cui lei è dispiaciuta che è diverso da questo perché lei sa benissimo che la deriva del mondo arriverà a toccare il fondo e conosce benissimo i segreti che sono il momento dell'epopea del male il tempo dei segreti è un tempo di Dio perché la madonna interviene sappiamo in che modo quindi il tempo di Dio è un tempo di Dio ma è soprattutto il tempo in cui il male manifesta se stesso ci sarà il grande attacco alla creazione all'opera della creazione alla redenzione grande attacco alla chiesa e il tentativo di Satria di padrice del mondo quasi il tempo dei segreti allora lei sa tutto questo la madonna e ci ha anche già detto che il suo cuore trionferà dove la madonna è preoccupata invece a mio parere riguarda noi cioè la madonna è preoccupata di come noi ci stiamo perdendo ci stiamo veramente perdendo ci stiamo indebolendo ci stiamo sfarinando la madonna già in passato aveva manifestato il suo dispiacere perché molti dopo aver risposto alla chiamata aveva incominciato con fervore ci sono intiepiditi questo dispiacere è chiarissimo nel messaggio che la madonna ha fatto tante volte durante l'anno durante questo arco di tempo di 42 anni la madonna è più di una volta intervenuta con degli scrolloni molto forti e in particolare intervenuta il 25 settembre di quest'anno quando la madonna si è lamentata che si è lamentata perché non c'è più il fervore delle origini diciamo le cose come stanno la madonna si è lamentata nel messaggio il 25 settembre di quest'anno si è lamentata perché non c'è più il fervore delle origini quando si pregava giorni e notte quando il cielo non taceva e ha parlato anche di modernismo che toglie a voi la gioia di pregare e di incontrare Gesù allora cari amici questo messaggio del 25 settembre è rivolto alla parrocchia di Međugorje e a tutti quelli che hanno risposto alla chiamata ma in primo in primis alla parrocchia di Međugorje questo l'ha detto la madonna a suo tempo che lei messaggi prima li dà per la parrocchia e poi per tutti gli altri quindi quel messaggio lì dove lei lamenta la tiepidezza di quelli che ha risposto alla chiamata riguarda prima di tutto Međugorje e poi riguarda tutti gli altri allora cari amici noi sappiamo che la madonna si è prodigata fin dall'inizio in tutto questo tempo per rafforzare la chiesa in un tempo in cui la chiesa è sotto attacco anche dall'interno per la presenza diciamo della potenza del male che disgrega soprattutto il modernismo e che è una visione alternativa alla fede una visione del mondo della vita alternativa alla fede quindi la madonna in tutto questo anno in tutto questo tempo ha lavorato attraverso la parrocchia di Međugorje al rafforzamento della chiesa ed è un programma che lei ha realizzato con il tempo ottenendo grandi risultati sicuramente sono nato per il grande numero di sacerdoti che è venuta a Međugorje anche il grande numero di pellegrini e non c'è dubbio che ha rafforzato la fede della chiesa ha permesso soprattutto all'occidente di avere forti minoranze mariane quindi affidabili allora cari amici però la madonna all'interno di questo rinnovamento globale della chiesa la madonna si è concentrata soprattutto e non lo vediamo nei messaggi a Miriana si è concentrata in numerosi messaggi lei ha manifestato questa sua preoccupazione a formare delle schiere speciali delle schiere speciali che li chiama gli apostoli del mio amore è un'espressione che si trova nei messaggi di Miriana ma a posto di Maria è anche un'espressione che si trova nei messaggi alla parrocchia allora cari amici è qui il punto della questione cioè a mio parere la madonna ha visto svarinarsi in qualche modo ha visto indebolirsi queste schiere man mano che il tempo passa e i motivi sono tanti cari amici prima di tutto molti non perseverano cioè incominciano con gioia poi come parlavo del seminatore o perché o perché il terreno non è stato arato bene o perché ci sono le preoccupazioni materiali che sono le spine e i rovi che soffogano o perché arriva il diavolo che porta via il seme insomma la madonna ha visto indebolirsi le schiere che lei ha formato nel tempo per cui ci sono quelli che non hanno perseverato che sono tutti a meggiugorie sono tornati bene di entusiasmo sono andati qualche mese poi hanno smesso sono ritornati a fare la vita di prima e non hanno colto la grazia particolare poi ci sono quelli che pur non avendo perseverato perché sono appesantiti di mondanità altri hanno incominciato a voltarsi indietro dopo aver posto mano all'aratro e quindi un po' sì un po' no altri e non sono pochi si sono fatti sfiare dal falsario che sappiamo quanti i seguaci di meggiugorie hanno cominciato a seguire quella quella diciamo le varie alternative che il falsario crea alle apparizioni vere cioè le false apparizioni le ideologie insomma il specchio per le allodo le false luci e sono tanti quelle che si sono fatti sviare cari amici per cui in pratica non lo vediamo solo una piccola parte ha perseverato ed è pronta la battaglia questa è la preoccupazione della madonna solo una piccola parte ha perseverato ed è pronta la battaglia per cui la madonna adesso sta cercando di risvegliare quelli che dormono sta cercando di compattare le schiere non sarà facile cari amici perché a mio parere se non ci sarà un risveglio se non ci saranno gli scossoni che riportino diciamo così come si fa col cammino che all'automomento il fuoco sembra che debba spegnersi poi ci dà qualche colpo di cammino si butta su magari un po' di carbonella e il fuoco riprende quindi dobbiamo aspettarci a discorso da parte della madonna perché lei ha bisogno che quando arriva il momento dei segreti le sue schiere siano pronte cari amici sarebbe veramente grave se si realizzasse questa ipotesi che si può realizzare che il momento dei segreti trovi la gente impreparata e poi devono stare attenti specialmente quelli che abitano a Međugorje e devono stare attenti a una tentazione molto sottile io mi permetto di parlare liberamente però lo faccio lo faccio con spirito buono diciamo non di critica però c'è anche questa tentazione state attenti ma si ma cosa stiamo lì a pensare i segreti chissà poi se è vero o non è vero ma si adesso qui va bene madonna c'è stata o c'è ancora però noi in la mia chiesa abbiamo la nostra vita abbiamo le nostre le attività abbiamo il nostro tenore di vita tranquillo ci accontentiamo così siamo contenti così cari amici ma questi sono inganni del diavolo perché quando arriverà quando arriverà quel che deve arrivare cari amici sarà come quando è incominciato a piovere i tempi del diluvio e allora si correrà si salve chi può ma quanti riusciranno a salire sull'arca non lo so da qui concludo cari amici la necessità assoluta da parte nostra che già su da parte nostra di di rispondere alla madonna cioè di rafforzarsi di ripulirsi di pregare giorno e notte di essere pronti alla battaglia perché poi se non siamo pronti verremo travolti non c'è dubbio al riguardo ecco questo non è per responsabilizzarvi per me la madonna è preoccupata perché come dire siamo come quelle vergini che non lavano l'olio di riserva stiamo attenti carissimi con questo ho terminato questa mia riflessione cioè c'è un motivo per cui la madonna è addolorata ed è preoccupata ed è perché le sue schiere diciamo così si sono accampate come annibale negli ozzi di capua diciamo bene carissimi abbiamo terminato siamo arrivati al blog ma ho poco tempo vi segnalo soltanto per quanto riguarda una curiosità una curiosità che mi ha fatto sorridere mi ha fatto sorridere ed è una letta di una signora che ci racconta perché la letta quello che è successo in Albania che come sapete è diventato un paese comunista che più di tutti ha perseguitato la chiesa questa signora ha raccontato cosa è successo in Albania quando è stato fucilato dai comunisti il primo sacerdote andate a vedere che cosa è successo e vi assicuro che è una cosa verissima ce l'ha raccontata lo stesso cardinal Simoni allora chi vuole leggere il blog ha due o tre lettere molto belle da poter leggere andate su blog blogdipadreliglio.it se usate google se usate il sito raddomaria.it in alto cilicone del blog con questo terminato guardami si vi ricordo che da oggi alle 14 e 10 minuti Roberta in pomeriggio insieme inizierà una novena per la pioggia perché stiamo andando in una situazione molto pericolosa molto preoccupante per quanto riguarda la pioggia ho visto la previsione di di febbraio non c'è neanche una voce d'acqua e qui è già tutto secco cari amici quindi chiediamo al Signore la grazia della pioggia con questa novena che faremo ogni pomeriggio alle 14 10 minuti c'è una bellissima preghiera fatta da Paolo VI per questo e quindi imperiamo anche noi a rivolgerci al Padre Celeste e quando abbiamo bisogno grazie per tutto l'aiuto che è dato alla domania buon proseguimento buona giornata a tutti